Muamed Zouawi, giusto? Eh, sì, l'hai detto benissimo. Allora, buongiorno a te. Tanta televisione, tanto cinema e adesso sei in Burraco Fatale, ecco lì vediamo il cartellone, e fai innamorare Claudia Gerini. Eh, sì, sì. Claudia... no, siamo ancora innamorati. Scherzo. No, è stata una bellissima esperienza, ringrazio la regista di avermi scelto, è un film curale, femminile direi, sono l'unico maschio, diciamo, mezzo alle donne, quindi sono contento, vive alle donne. Poi io dico sempre, se il mondo è comandato dalle donne, penso sarebbe stato molto meglio, meno guerra, meno omicidi, però purtroppo no. No, comunque c'è un altro uomo, eh, c'è il povero, povero, insomma, povero manco tanto, il marito di Claudia Gerini, il marito di Irma. Il che, diciamo, fa il cornuto, cioè vale poco. Vabbè, ma ha cominciato lui, vabbè, ma non spoileriamo tutto. Sì, sì, è vero, ci sono anche altri colleghi, eccetera, però diciamo... Tu sei quello figo. No, io sono quello la più fortunato, perché sono proprio beato tra delle donne, diciamo. Ci credi all'amore a prima vista? Ah, eh, l'amore, guardi, credo di sì, perché dove c'è il sentimento forte parte l'amore, poi alla fine l'amore rimane, solo che si trasforma in altro, ma forse l'amore vero è proprio quello a prima vista, credo. Senti, chiudiamo con una battuta leggera, il film è leggerissimo, scorre tranquillamente, è una commedia romantica, ma però scopriamo anche che non tutti sono coloro che sembrano. A te Irma ti trova in un posto, invece tu sei tutt'altro, quindi attenzione alle apparenze, giusto? Hai detto bene, guardi, alla fine, quella che alla fine la gente bisogna che imparano, che l'apparenza è sempre inganna, non si sa mai, quindi da pesce si trasforma in qualche altra cosa, però bisogna vedere il film, è un film molto leggero, spero di vedervi presto al cinema, un abbraccio. Saluto speciale a Spettacolo Mania, la mania dello spettacolo è sempre il benvenuto, ciao!